Arriva quel momento nella vita di tutti noi dove bisogna cambiare iPhone E questo è il giorno adatto E salutete ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video Quest'oggi sono appena ritornato dall'Apple Store di Milano, Piazza Liberty con rischio di essere rapinato Seguitemi su Instagram raga perché questa mattina ho pubblicato delle storie troppo divertenti Perché quest'oggi è finalmente il day one dei nuovi iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e degli iPhone 11 normali, non Pro Come promesso quest'oggi ecco il primo dei due video che caricherò dove faremo l'unboxing e le prime impressioni di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max Sfortunatamente sono riuscito a prenderli solo in colorazione verde notte che comunque è quella nuova Mentre invece per gli iPhone 11 mi è andato un pochino meglio per quanto riguarda i colori Ma detto questo io non vedo l'ora di cominciare, quindi non perdiamo tempo e cominciamo subito con l'unboxing Voglio iniziare ad aprire l'iPhone 11 normale, quello più piccolino L'ho preso da 64 GB e innanzitutto la scatola notiamo che è leggermente diversa rispetto agli anni scorsi C'è scritto sempre iPhone sui due lati e ovviamente c'è il logo della mela sulla parte più stretta Ma quest'anno per gli iPhone Pro, unicamente per gli iPhone Pro la scatola è di colorazione scura Perché infatti il nero comunque per Apple è sempre stato un colore Pro Differente per esempio da una scatola di un iPhone 11 normale che invece è bianca Ma dei colori della scatola ci interessa relativamente, iniziamo a togliere la pellicola esterna Questo video sarà anche un po' ASMR Non vedo veramente l'ora quest'anno di provare sul campo questi dispositivi, soprattutto lato fotografico Vorrei fare il sorpreso ma in realtà io l'avevo già visto i giorni precedenti Però la prima volta che l'ho visto sono stato molto sorpreso Perché dal vivo è comunque molto diverso rispetto ai vari render che abbiamo visto Ne parleremo più tardi perché prima voglio vedere una cosa molto più importante del nuovo iPhone A parte il Designed by Apple in California che c'è sempre assieme ovviamente alla guida rapida Con scritto ciao agli Apple stickers che sono bianchi anche quest'anno Non li metteranno mai neri nella scatola di un iPhone Ovviamente qui c'è il tool per estrarre la scheda SIM Ma quello che realmente, buongiorno, ci rivediamo caro amico, mi interessa È il caricatore da 18 watt preincluso nella confezione di iPhone 11 Pro e di iPhone 11 Pro Max Questo è un caricatore super veloce che funziona dall'iPhone 8 in poi Un missile, cioè vi fa da 0% a 50% in un attimo E finalmente Apple almeno nella confezione degli iPhone Pro ha deciso di includerlo Questo ovviamente impatta anche non tanto sulle cuffie che sono sempre le classiche con il cavo Lightning Ma impatta sul cavo che troviamo in confezione che non è più un USB A Lightning Bensì un Lightning USB-C Quindi potrete attaccarlo direttamente al vostro MacBook o al vostro laptop o computer Windows Se ha una porta USB Ma soprattutto potrete attaccarlo direttamente al caricatore a muro e caricarlo super velocemente Richiudiamo la scatola Peraltro ragazzi questa è una delle scatole più belle che io abbia mai visto Secondo me tra le migliori dopo quella del primo iPhone E mi ricorda molto quella dell'iPhone 7 Plus Jet Black Ma detto questo io aprirai al volo anche il mio iPhone personale Quindi l'11 Pro Max Questa volta ci andiamo più di prepotenza perché il contenuto ovviamente è uguale E eccolo qui anche lui Basta finito l'unboxing E insomma ragazzi eccoli qua Senza perdere troppo tempo direi di fare lo spellicolamento quello vero E questa volta raga c'è un solo foglio Solo davanti il retro non è coperto Probabilmente è un ulteriore prova del fatto che sia più resistente E noto peraltro è scritto in modo molto piccolo Che qui sulla pellicola protettiva c'è scritto anche qua Designed by Apple in California Apple ogni anno marchia qualcosa di nuovo Questo ve lo faccio proprio ASMR Devo dire che comunque mi piacciono Si vede che è un unico pezzo di vetro E ne stavo parlando ieri con Marco di Fanpage Questo intaglio delle fotocamere Lo fa sembrare veramente premium Veramente pro Cioè quasi quasi ti fa sembrare cheap ed economico questo È brutto da dire ma Apple ha questo potere magico Che quando compri l'iPhone nuovo Quello vecchio Automaticamente il giorno prima era la cosa più bella del mondo Il giorno dopo non ti piace più Ed è una cosa incredibile Comunque io direi di non perdere tempo E di accenderli entrambi contemporaneamente Facciamo gli speed test al 2011 style dai Oramai raga io ho sviluppato una skill Ovvero quella di configurarli a razzo entrambi simultaneamente Guardate metto anche la stessa password del wifi simultaneamente Configurazione di Face ID dai È una cosa che capita una volta all'anno Ogni 20 settembre circa Faccio questa cosa Hai configurato Face ID Schermo True Tone Che a me fa ribrezzo Quindi io lo disattiverò subito Ovviamente il nuovo aspetto di iOS 13 Io direi sull'iPhone Pro È obbligatorio impostare il tema scuro Perché che fai? Ce l'hai? Te ne privi? Qua ovviamente ti fa il tutorial Su come utilizzare l'iPhone Che ti dà Anzi mi dà Perché è mio Il benvenuto Scorriamo in alto Boom ragazzi Ecco qua i nuovi iPhone 11 iPhone 11 Pro configurati Cosa cambia rispetto all'iPhone XS Max? Cosa ha in più questo iPhone 11 Pro Max? La fotocamera La fotocamera E la fotocamera A parte gli scherzi cambia anche altro Però io voglio assolutamente fare una prova della nuova fotocamera Novità di fotocamera Acquisisci area esterna al riquadro Ovviamente la terza fotocamera è quella grandangolare Lo sappiamo già Poi proverò con calma anche la dark mode Anche se adesso è pieno giorno Quindi la vedo un po' difficile Però come potete vedere Ingrandimento 1 per per il momento Poi c'è lo 0.5 per Che già raga Cioè guardate che roba È appiccicato al tavolo Cioè c'è tanto così dal tavolo E praticamente ti prende Tutta quest'asse di legno qua Più una parte di quella blu Impressionante Allora scusate il disordine Ma provo a fare una foto dello studio con il grandangolo È una cosa illegale sta roba Cioè vede tutto Vede Ma un'altra cosa che voglio assolutamente provare Sono i video in slow motion Fatti con la fotocamera frontale Chiamati anche slowfees Sarà molto cringe adesso Io vi avviso Perché io faccio queste cose? Perché le faccio? Eccolo lì Però fa ridere E adesso a parte leva Tutte la qualità Raga per essere un video in slow motion È veramente alta Sfortunatamente per me Per la mia espressione Adesso TikTok sarà invaso Di video in slow motion Oh e un'altra novità È che qualora fossimo nella sezione foto E volessimo iniziare un video Senza dover perdere tempo E passare alla modalità video Basterà da foto Tenere premuto il tasto di scatto Ed ecco che inizieremo in automatico A registrare un video E poi basterà scorrere verso destra Per poter rilasciare il bottone E registrare il nostro video Sfortunatamente non funziona lo zoom Tipo Instagram Però ecco vedete che il video è stato salvato E poi l'ultima grande novità Della fotocamera È la modalità notturna Che si dovrebbe attivare in automatico Quando l'iPhone rileva Una presenza di scarsa luminosità Quindi in teoria Eccolo qua Vedete se io copro L'obiettivo con la mano Qui compare un altro bottoncino Che è quello della modalità notturna Sostanzialmente come funziona Qui ve lo propone a un secondo Adesso è sparito Eccolo appoggio così ricompare E questo bottoncino Vi permette di fare due cose Sia l'ottimizzazione software Quindi quella che hanno Molti altri smartphone della concorrenza Per le foto al buio Che rimuovono il rumore Digitale E cose del genere Ma anche un tempo dell'otturatore Più lungo Quindi per esempio 5 secondi Il sensore della fotocamera dell'iPhone Catturerà luce per 5 secondi E questa è una caratteristica hardware Che si vede sulle macchine fotografiche Un iPhone che ha questa roba A me è piaciuto molto sinceramente E poi qua ovviamente c'è Il piccolo metro Diciamo la piccola scala numerica Per scegliere quanto tempo di esposizione dare Il tempo massimo che possiamo dare È 28 secondi Ovviamente per 28 secondi L'iPhone presumo Deba stare su un cavalletto Perché significa che noi dobbiamo stare fermi 28 secondi così Mentre la foto si scatta E poi 28 secondi Cioè devi essere al buio completo Ah peraltro qua vedo anche dei nuovi bottoni Si può cambiare direttamente Prima di fare la foto da 4 terzi Si può passare a un primo Che è la versione quadrata per Instagram Oppure 16 noni Fantastica questa cosa E queste funzioni della fotocamera Che vi ho fatto vedere sull'iPhone 11 Pro Max Sono identiche anche sull'iPhone 11 Pro Non cambia nulla Quello che invece secondo me un po' cambia Ed è un sentito dire Quindi poi verificherò di persona Se questa cosa sia vera o no È che l'iPhone 11 Pro Max Abbia una batteria Tipo super duratura E ovviamente anche il fratellino minore Dovrebbe averla Ma non vedo l'ora di fare un test batteria Perché a quanto pare quest'anno Finalmente dovrebbe essere la volta buona Per una batteria super duratura Quindi non vedo l'ora di provarla Sul telefono più grande Che ovviamente è una batteria più grande Peraltro raga fatemi togliere il tema scuro Perché già non mi piace Disattiva il tema scuro Lo scuro Ho disabilitato lo scuro raga Sembra il personaggio di Yu-Gi-Oh Ultima chicca prima di chiudere il video Hanno completamente rimosso il 3D Touch Questo significa che se per esempio Io apro il centro di controllo Non importa se io dovessi fare una pressione Forte o piano Basterà semplicemente tenere il dito premuto Su un qualsiasi menu 3D Touch E questo si aprirà con anche un feedback aptico Quindi si ha l'illusione che sia un 3D Touch Ma in realtà è semplicemente un haptic touch E questo può sembrare influente Ma in realtà cambia Cambia in peggio Perché per esempio Sull'iPhone precedenti qui c'è un XS Notate come io posso usare il 3D Touch Sulla tastiera per esempio Per spostarmi in un testo Sull'iPhone 11 Pro invece Non essendoci più il 3D Touch Non posso più spostarmi Anche perché c'è la nuova tastiera Swipe E quindi mi prende lo Swipe Capito? Anziché spostarmi nel testo Per spostarmi nel testo Lo posso comunque fare Ma devo per forza partire dalla barra spaziatrice Se io tengo premuta la barra spaziatrice Ecco che mi compare ancora la funzione trackpad Però secondo me era molto più comoda Da fare con il 3D Touch Quindi peccato per questa cosa Una cosa di cui sono super curioso È provare Face ID Vedere se è più veloce rispetto a quel di prima generazione Pazzesco raga L'ho bloccato L'ho sbloccato Si sblocca all'istante C'è una discrepanza incredibile Per il resto ragazzi Questo colore A me piace A me piace veramente molto A me ricorda Un pochino il verde militare E Confermo che questo Intaglio fatto di vetro Che si Tra le virgolette mimetizza Con lo stesso colore dell'iPhone A me piace molto E soprattutto ragazzi Questo qua È comunque vetro Ma essendo opaco Lascia molte meno impronte È una cosa bellissima Soprattutto per chi come me l'iPhone lo usa senza cover Detto questo ragazzi Questo era un rapidissimo unboxing E prima impressione di Stavo per fare un danno Detto questo ragazzi Questo era un rapidissimo unboxing E prima impressione di iPhone 11 Pro E iPhone 11 Pro Max Io spero che questo video vi sia piaciuto Se è così Fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su Che mi renderebbe veramente felice Seguitemi su tutti i miei social network Come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione Cliccando qui lati potete raggiungere altri miei due video E invece cliccando qui al centro Vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi E vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo In un prossimo video In un prossimo video In un prossimo video